E' tutto vero, un canale colorato di rosso nero dove è tutto vero, zero fake news, la voce sincera che c'è su Youtube, siamo una fonte verificata, è questa la vera ficata la cui parliamo solamente della prima squadra di Milano, siamo Milanello, 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 iscriviti, iscrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti. Amici della Voce del Diavolo, ben ritrovati, siamo nella settimana che precede il derby, un momento complesso per l'Italia, un momento complesso per l'Europa, però c'è il derby, è sempre un momento molto importante, sono sicuro purtroppo che ricorderemo questo come il derby del Covid, non tanto per le assenze ma quanto proprio per il momento che stiamo vivendo, però il derby sembra proprio che si giocherà e alla fine questa è la cosa più importante perché lo sport in qualche modo deve cercare di andare avanti anche in questi momenti, anzi è proprio necessario che vada avanti per dare un'apparenza di normalità a momenti che proprio normali non sono, normalità e continuità. Bene, allora vediamo un po' questo derby e personalmente vi devo dire che io il derby lo soffro, l'ho sempre sofferto, è la partita che più soffro e però è anche la partita che sinceramente mi ha lasciato dei ricordi indelebili, oltre le grandi vittorie nei campionati e nelle Champions, ma le partite che più mi ricordo, che più ho vissuto con grande intensità nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, sono stati proprio i derby. A parte i derby ovviamente di Champions, quelli sono delle pietre miliari che non cambieranno mai per noi milanisti e aver vinto due derby di Champions, quarti di finale e semifinale e poi aver vinto la finale con la Juve, praticamente potremmo dire che abbiamo avuto tutto, tutto ciò che il calcio poteva darci. Però ci sono dei derby, io non sono giovanissimo, ne ho visti tantissimi, alcuni derby che mi sono rimasti impressi. In questi giorni ho già raccontato il derby col gol di Atley, il famoso gol di Atley su passaggio di Virdis, con Lovati che arrancando non riesce a tenere Atley, Atley che tocca il pallone da una botta di testa alzandosi di due metri. Io ero proprio a due metri proprio da Atley, perché una volta c'era il parterre, che erano dei posti in piedi attaccati alle sbarre e quindi ero a due metri da Atley, ho sentito l'impatto del pallone e poi ho sentito la palla che sfiorava la rete, che toccava la rete e quindi il gol del 1-0 poi finale. Un derby bellissimo. Un altro derby da una posizione analoga, io ero seduto in quelli che una volta erano in commando Stigre, ero seduto nei commando, quindi dietro la porta, era il derby del 92, non era una grande Inter, però eravamo 0-0 al novantesimo, al novantesimo azione, un'azione vedo al limite dell'area, vedo Massaro, il sindaco Daniele Massaro che scivola, scivola al limite dell'area, io gli dico dai Massaro alzati e segna, alzati e segna Daniele e Diego Fuser fa un passaggio, Massaro si alza e la mette. Mi sono rimasto un attimo incredulo perché io scherzavo dicendo alzati e segna e in realtà segnò, quindi un momento bellissimo, uno dei tanti momenti veramente che hanno contraddistinto questa sfida importante, questa stracittadina tra noi e l'Inter. Vediamo da un periodo in cui non ci sta dicendo molto bene, gli ultimi li abbiamo persi, abbiamo perso uno importantissimo, io do sempre la colpa a Gattuso per aver perso il derby di due anni fa, quel derby in cui eravamo nettamente favoriti, c'era un Inter alle pezze, secondo me Gattuso sbagliò completamente la tattica, c'è chi dice che gli fu imposto di sbagliare la tattica, cioè che fu Leonardo, credo, a imporgli la tattica e la formazione, io non credo perché Gattuso non è uno che si faccia mettere sotto, secondo me non ci capi niente, Spalletti fu più bravo, l'Inter vinse quel derby anche di fortuna per merito di una parata di D'Ambrosio all'ultimo secondo, però lo vinse e andò poi in Champions e l'Inter da quella Champions ha costruito poi diverse situazioni che gli hanno permesso adesso di avere una squadra piuttosto forte perché ha appunto godere anche dei ricavi della Champions, cosa che a noi è mancata e purtroppo mancherà anche quest'anno, essendo solo noi in Europa League. Comunque adesso sarebbe il momento di vincerla, anche se vi devo dire questo amici tifosi, sì dobbiamo vincere questo derby, è molto importante, però ricordatevi che il Milan ha vinto tutti i derby che contano, che contavano, tutti i derby che contavano di Champions, vi ho già detto, quarti di finale e semifinale, addirittura finali di Coppa Italia, finali di Supercoppa Italiana, campionati in cui la partita era decisiva per vincere lo scudetto noi o l'Inter, noi li abbiamo vinti sempre tutti. Quindi quando il derby conta molto lo vinciamo noi, quando conta meno possiamo anche, qualche volta l'abbiamo lasciato ai nostri cugini, anche se la frase sembra una frase fatta ma non è una frase fatta, ricordiamoci sempre, almeno io personalmente lo dico senza problemi, senza un timore di essere considerato Becero, io personalmente non ho cugini, non ho cugini, non ne voglio avere, gli interessi se ne stiano lì dall'altra parte del Naviglio che noi siamo bene, siamo bene a casa nostra. Allora vediamo un po' questo derby, arriva un Inter contro un Inter del Piangina a Conti che stanno già dicendo ci manca questo, ci manca quest'altro, in realtà non gli manca nessuno, l'unico che doveva mancargli probabilmente era Bastoni che comunque è un ragazzino, un ragazzino in realtà dovrebbe non mancare probabilmente perché hanno fatto una norma, proprio la chiamo la norma Bastoni, una norma che Bastoni hanno ridotto il tempo della quarantena quindi probabilmente Bastoni potrà giocare regolarmente così, smetterà di piangere Conte? No, non credo, piangerà. Se non dovesse vincere questo derby piangerà anche dopo e sarà una goduria immensa. Sarebbe ancora più bello che vincere vedere il pianto di Antonio Conte alla fine della partita rimarcando l'assenza di due o tre panchinari anche piuttosto, come dire, agé di una certa età ma lui piangerà sempre. Ha una squadra con 20 giocatori, 22 giocatori molto molto forti ha una panchina incredibile, la migliore panchina in Italia ma cosa fa Conte? Piange. Noi ci presentiamo con Ibra a rientro per fortuna, non sappiamo le sue condizioni, è comunque rimasto fermo due settimane però Ibra sappiamo che ci possiamo sempre contare, Romagnoli non gioca da mesi, ha avuto un problema piuttosto serio, ha un muscolo e rientra adesso, lo vauteremo speriamo sia in condizioni, deve essere per forza in condizioni perché Gabbia è fermo anche lui perché è risultato contagiato ed è positivo. abbiamo la nostra formazione quasi tipo, diciamo, abbiamo Donnarumma, i due terzini Calabria ed Hernandez, poi penso che in mezzo siamo obbligati con Chier e Romagnoli, poi giocheranno i due i due mediani, giocheranno Ben Nasser e Chessy. Poi dopo davanti si vedrà chi mettere vicino a Ibra e a Cialanoglu. Cialanoglu secondo me potrebbe essere l'ombre del partito, l'uomo della partita Cialanoglu perché è in buona forma, vediamo se riuscirà veramente a combinare qualcosa di buono in questo derby. non so gli altri due che giocheranno, si parla che potrebbe giocare sia Castiglieco che Saramaker, personalmente spero di no, sono due giocatori cosiddetti generosi, sono due giocatori che fanno la doppia fase, avanti e indietro, però fanno la doppia fase, cioè sono generosi ma non sono giocatori da Milan, sono giocatori che dobbiamo apprezzare perché si impegnano tanto e in questo momento mi sembra più in forma, anche per ragioni fisiche, mi sembra più in forma Saramaker, uno mi sembra più che sufficiente. Personalmente io farei giocare accanto a Ibra, farei giocare Leao che ha una buona gamba però in molti stoccono il naso perché dicono che Leao giocare 90 minuti di concentrazione non è ancora al massimo delle sue potenzialità che secondo me sono molte anche lui comunque reduce dalla positività e quindi non è al massimo della forma. Peccato, grande 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 peccato, a noi sì che ci manca, a un giocatore ci manca Rebic che non recupererà per questa partita, per l'infortunio a braccio, Rebic è un soldato, è un lottatore, avrebbe fatto sicuramente bene accanto a Ibra però noi non siamo come l'Inter, noi non piangiamo e vediamo, però cerchiamo almeno di mettere qualcuno buono al posto di Rebic. Ecco, si parla anche che potrebbe giocare Brahim Diaz che mi convince meno di Leao, sicuramente molto bravo, tecnicamente molto bravo ma mi sembra ancora un po' leggerino per il peso, almeno per giocare titolare in un derby. Comunque alla fine ci penserà Pioli, saprà lui esattamente il meglio che c'è da fare per mettere in campo una squadra che possa affronteggiare una squadra comunque forte come l'Inter in questo periodo. A questo punto cos'altro aggiungere? Niente, siamo tifosi, forza Milan, andiamo a vederci questa partita sabato alle 16, un orario da pazzi giocare sabato alle 16 con tutti gli impegni della nazionale, con i giocatori che arriveranno il giovedì sera o addirittura venerdì, è una cosa da pazzi ma la federazione ci ha abituato a queste cose. Lo vedremo con tanta voglia di continuare nella nostra serie, perché siano 20 partite che non perdiamo, abbiamo fatto molto bene, siamo primi in classifica in questo momento con prime tre vittorie, anche se le partite non erano squadre fortissime. Abbiamo messo sotto l'Inter l'anno scorso, non abbiamo perso con l'Atalanta, abbiamo battuto Roma e Lazio e quindi non ci resta che battere l'Inter, se dovessimo battere l'Inter ci proporremmo come la sorpresa, come la mina vagante di questo campionato che ci vede non in posizioni non favoriti, ovviamente ci sono due squadre molto più forti di noi sulla carta, Juventus e Inter, poi ci sono altre due più forti di noi sempre sulla carta che sono Napoli e Atalanta e poi altre più o meno pari a noi, però quella è la carta. Poi c'è il campo, poi c'è San Siro, godiamoci questa partita, cerchiamo di avere tanta fiducia nei nostri ragazzi che comunque stanno facendo bene, comunque sappiamo che abbiamo la squadra più giovane della Serie A, quindi grandi prospettive per il futuro, ma intanto andiamo a giocarci questo derby. Forza Milan! Scriviti, scrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti!